questo è until none remain finché non resta nessuno map outdoor us server solo questo join server posso fare poco altro cioè non è che mi dai possibilità di fare altre cose giochino e ora ti proviamo loading ok c'è una cucina che mi dice finché non resta nessuno il match inizia a fare minuti bellissimo non sono ma c'è una specie di sweet armor tutta set sporca un contesto in due minuti maggiore inventario c crouch ok posso fa niente ok salto devo avere un'arma per droppare quindi con questi troppano le armi a o un coltello questa è la mia unica arma quindi e si tira fuori con la q non male per adesso a meno la grafica scorre abbastanza bene a tab o l'help niente zero kios perfetto se stavo d'aiuto mi fisso col con numero che scorre alle spalle la cucina è abbastanza inquietante fa molto battle royale gente mi scrive ma se esco adesso dal gioco potrebbe succedere qualsiasi cosa quindi ho sentito il rumorino nella cuffia l'artista del papa di tortie che andrà in questo video ah è uno screen questo l'ho già imbacchettato ok scendomorsi verso chi non lo so allora sono una specie di deserto i round durano due minuti ah ci sono pistole con F infatti sniper round sniper rifle pulse round perfetto detonation grenade quindi con la q no sempre questo come tiro fuori le altre armi 1234 fa nulla inventario esploriamo sì ma io ho preso un'arma vorrei usarla sto provando tasti sì ho capito io vorrei anche avere un'arma e tirarla via e ammazzare per cose persone fatti animali ma se non mi date la possibilità continuo fuori il coltello poi non riesco a switchare alt'arma vuole dire tutto bellissimo la mappa è molto bella ci sono delle specie di fortezze posizioni difensive ma io continuo a poter indossare solo ecco quindi trovo in giro anche delle ecco rifle no backpack b a porco due trovato r farebbe rumori ah ce n'è uno visto un tizio ok ci sono i bot adesso sto uscito da un bot dimostra semplicemente una cosa la mia scarsità di giocatore si si allora secondo me due minuti per giocare contro quattro bot è veramente esagerato come tempo d'attesa visto che ci sono i bot porco due buttami dentro facciamo un'altra partita anche se due minuti d'attesa uccidono due minuti d'attesa per un match sono troppi ciao gatto che sei venuto a fare qui ah vuole andare lì so che è pieno e adesso sei un po' vuoi saltare qua vuoi fatto spazio vai ah c'è un altro tizio è P.T.O ma secondo voi se tiro fuori il coltello posso ammazzare qua dentro dico che non ce la voglio questo ne sa esattamente come me sta a provare i tasti Kung Fu Kung Fu no un minuto va bene aspettiamo questo gioco si aspetta più di quello che si troverebbe secondo me però me l'hanno mandato questa Kay non l'ho richiesta e allora beh ci ho fatto una seconda partita e non ho fatto la super mini recensione quindi lo puoi ammazzare lo puoi ammazzare dentro la lobby come cazzo hai ma povero che sei e questo la dovrebbero correggere sta cosina posso ammazzare dentro la lobby perché dove mi ha buttato devo cercare le armi e B Backpack allora Pulse Rifle 1 handgun 2 ok piazzato medical Pulse 1 3 8 8 8 9 8 9 10 10 11 12 8 9 13 11 11 13 14 15 15 16 16 ah ho vinto un mastuno questo c'è ancora un malo il secondo non ho ben capito bene tutta la dinamica però va bene così c'è più di un round va bene così va molto bene così come faccio a consumarla l'america questo avanti potrebbe essere un botto un giocatore non lo sapremo mai ma la mappa enorme ho quattro giocatori in croce non vediamo nessuno però come va anche bene così però anche lo sei divertentissimo mi ha ucciso proprio tao grandissimo va bene e per questo gioco è tutto alla prossima ciao 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 Autore dei sovrapposti Grazie per la visione